Spera noi sempre con voi e voi sempre con noi, mi raccomando seguiteci ogni sabato notte dalle 21 alle 22 solo su Radio Kiss Kiss per il DJ Lovers Radio Show Top 1 C'è le 20 posizioni più ballate della settimana, chiaramente nei migliori club d'Italia e del mondo quindi questo è solo grazie a Radio Kiss Kiss La settimana abbiamo visto che ci sono state diverse nuove entrate e che arrivano tra le altre cose dalla Winter Music Conference di Miami quindi per tutti gli appassionati del settore, per DJ e producer, basta restare collegati su Radio Kiss Kiss ogni sabato notte dalle 21 alle 22 per scoprire se si è potuti entrare o se forse si è usciti dalla nostra chart L'anticipazione appunto che vi ho detto è che questa settimana ci sono tantissime novità che arrivano dalla Conference di Miami Per sapere di più, restate collegati Per chi non sapesse cos'è la Miami Conference? La Miami Conference è semplicemente il ritrovo dei migliori DJ di tutto il mondo che in genere si fa una volta all'anno precisamente nella seconda o la terza settimana di marzo a Miami questa settimana è dedicata esclusivamente alla migliore musica quindi si parla di tutta la musica dance, di tutta la musica electro, di tutta la musica funky di tutta la musica internazionale quindi si possono trovare DJ di ogni calibro e di ogni situazione per ogni genere musicale feste di continuo, feste che partono a mezzanotte e finiscono a mezzogiorno insomma un 24 ore, 24 hours, only for party Ci vuoi dare qualche nome di qualche DJ particolare che nel fare queste tue chart ti ha colpito? Guarda mi colpiscono sempre tutti in realtà anche perché stanno muovendo benissimo i DJ italiani anche all'estero Benny Benassi lo conosciamo, Alex Gaudino anche ci sono tante nuove entrate, quelle di Simone Cattaneo, di Alex Gardini scusate e di tanti altri artisti tipo The Black Project con Nello Simioli e Pepe Black insomma che sono un duo formato sempre in Italia che comunque all'estero è veramente molto conosciuto tanti remix, tante nuove entrate, tante sonorità davvero interessanti questo c'è la scuola Per conoscerti meglio, quando è che ti sei avvicinata per la prima volta al mondo della radio? Il mondo della radio è stato credo un 4 anni fa su una radio tra virgolette locale perché è una radio che poi fa una buona parte del nord Italia e una parte del centro Italia per arrivare ora invece a Radio Kiss Kiss tutto questo grazie comunque a quello che succede nei night club non nei night club, proprio nel night live piuttosto nelle discoteche quello che capita all'interno di una serata e quindi del vocalist che in un certo modo anima, emoziona e cerca di dare adrenalina alla gente che viene ad ascoltare non soltanto la musica ma viene anche a divertirsi Ecco immagino che non sia un'impresa facile riuscire a trasmettere quella giusta dose di energia quando si è sulla console Non so se sia facile ma per me è divertente, fino a quando resterà divertente resterà anche piuttosto facile Quali sono i consigli che tu vorresti dare a chi vorrebbe intraprendere questa professione? Come DJ io ho poca esperienza effettivamente perché mi sono sempre occupata dello speakeraggio per quello che posso dire io ad un DJ che vuole comunque emergere chiaramente c'è sempre una grande distinzione da fare tra DJ e un producer Magari prima iniziate ad ascoltare la musica, iniziate a conoscere la musica e in un certo modo a mixarla nella vostra voglia, nella vostra sintonia con il vostro gusto perché essere comunque indipendenti, unici e se vuoi in qualche modo estroversi rispetto agli altri ha sempre una marcia in più Grazie a tutti!